Ciao bimbi, è tanto che non ci vediamo. Allora ho pensato di venire da voi per fare una bella lezione da casa mia a casa vostra con un bel video. Le ultime volte che ci siamo visti avevamo fatto una lezione sulla pausa. Ricordate il silenzio? Qui a fianco al video dove ci sono io, abbiamo lo spartito. Vedete? Uno, due, tre, quattro, queste quattro colonne, caselline, quadratini, chiamiamoli, che è meglio, ci sono dentro i quadratini tre puntini azzurri. I puntini azzurri saranno i colpi che dobbiamo fare con la mano e quindi uno, due, tre. Sul quattro abbiamo la nostra pausa e come la facciamo? In questo modo. Poi ne abbiamo un'altra. Uno, due, tre, s, poi un'altra. Uno, due, tre, s e poi un'altra. Queste pause qua in fondo le faremo sempre uguali con il s. Questo lo dobbiamo ripetere otto volte. Vedete? Una, qua, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e otto. E poi la ritmica cambia. Uno, due, battiamo le mani, quindi uno, due, tre, quattro, s, quindi sarà. Anche questo otto volte lo si fa. Seconda volta, quindi sarà di nuovo. Uno, due, s, s. Quarta volta, uno, due, s, s. E lo facciamo anche questo otto volte. Poi cambia di nuovo. Diventa una pallina, quindi uno e tre, s, s, s. Anche questo otto volte. quindi la seconda. Uno, s, s. Terza volta, uno, s, s. Quarta volta, uno, s, s. Bravissimi! Proviamo con l'audio. Col prossimo video vi farò l'audio. Ciao a tutti! Ciao a tutti!